I problemi a Favara sono sotto gli occhi di tutti. Strade dissestate colme di buche, centro storico abbandonato, ville vandalizzate sporche, scuole insicure, piscine e palasport dimenticati, tagli alle prese idriche, disoccupazione e l'elenco sarebbe davvero lungo da fare. Certamente mostrare le immagini delle cose che purtroppo non vanno, non funzionano, non è bello neanche per noi che siamo un'emittente televisiva favarese, ma con un raggio di segnale che sconfina anche la provincia di Agrigento. Per non parlare di internet, il nostro portale ha migliaia di contatti unici al giorno. Non è certamente un bel biglietto da visita per chi vorrebbe recarsi nella nostra città, ma purtroppo la verità dei fatti non la si può nascondere. C'è arrivata in redazione una strana voce che dicono circoli in qualche angolo del paese, ovvero quella che noi staremmo mostrando tutti i lati negativi della città o dando spazio alla voce del cittadino, sol perché non abbiamo più la convenzione con l'ente comune di Favara. È vero, la convenzione che prevede la ripresa del Consiglio Comunale e le comunicazioni istituzionali dell'amministrazione con successiva messe in onda è scaduta, e su questo non ci piove, lo sanno tutti. Ma dire che noi mostriamo solo quello che di negativo c'è in città per minacciare o chissà che cosa l'amministrazione comunale a rinnovarci il contratto, beh, di acqua sotto i ponti ne deve passare. Per chi conosce la professionalità, correttezza e serietà del nostro editore che è sempre stato disponibile e cortese con tutti, semplici cittadini e istituzioni politiche, militari e religiose, nonché con il mondo dell'associazionismo e società civile, sa che non lo farebbe mai. Per quei pochi increduli, invece, diciamo che a maggior ragione, vista la volontà dell'amministrazione comunale che ha già deliberato un atto di indirizzo che affida alla nostra emittente altri tre mesi di servizio, non avrebbe senso fare tutto ciò. Il nostro compito è quello di essere cassa di risonanza della città e dei problemi dei cittadini che altrimenti non verrebbero ascoltati. Compito arduo, ve lo assicuriamo, ma che giornalmente, con grande spirito di abnegazione, cerchiamo di portare avanti, subendo il più delle volte anche delle ripicche da chi sta al governo cittadino. Ma allarghiamo le spalle ed andiamo avanti e lo faremo finché le nostre forze ce lo consentiranno. Ci capita spesso di affrontare questioni e problemi di ordinaria amministrazione che potrebbero essere risolti in un nulla, ma che purtroppo si protraggono nei giorni, mesi ed anche anni. Noi, da cronisti, possiamo solo limitarci a denunciare pubblicamente le cose che non vanno. Non possiamo fisicamente intervenire. A farlo deve essere chi ci governa, chi ha esultato alle scorse elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Già, proprio il consiglio comunale, organo cittadino di controllo, a cui i favaresi hanno affidato l'arduo compito di rappresentanza, che spesse volte resta muto e cieco davanti ai problemi che si presentano. Anche questa miopia di alcuni consiglieri comunali ha portato la città di Fevara in questo stato di degrado e di abbandono. Spesse volte si addita all'amministrazione comunale l'incapacità di governo anche per l'ordinaria attività. Ma complici sono anche loro, i nostri consiglieri comunali, che se solo volessero potrebbero porre fine a tutto ciò, tramite una mozione di sfiducia che rimetterebbe il tutto nelle mani degli elettori. Grazie. Grazie.